diamo una zucca da sinistra la vado a unire questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Surfshark VPN VPN vuol dire rete virtuale privata e a cosa serve? e a cosa lo uso io? la cosa più importante da sapere sulla VPN è che fai in modo che tutte le tue navigazioni sui vari siti, dal cellulare, dal computer, ecc siano completamente sicure perché fatte in modo anonimo e perché protegge i tuoi dati ogni volta che ci colleghiamo da un wifi esterno che sia di un ristorante, di un bar che siamo soprattutto all'estero anche in Europa ci colleghiamo e mi collego sempre a wifi esterni e ogni volta rischiamo che i nostri dati siano divulgati invece con una VPN rimarrà la nostra navigazione completamente anonima un'altra cosa su cui aiuta è il fatto che se volete cercare ad esempio dei voli sapete che se voi continuate a cercarli si salverà dove volete andare e i prezzi vi risulteranno aumentati invece con una VPN non succederà perché appunto navicherete in modo anonimo un altro vantaggio di avere una VPN oltre alla sicurezza online è il fatto che vi permette di geolocalizzarvi geolocalizzarvi in un'altra nazione se volete vedere il vostro tv show preferito che non c'è ancora in Italia o che non c'è in Italia vi faccio un esempio adesso è il Super Bowl che raga in Italia senza la VPN non possiamo vedere oppure quando siete in viaggio funziona al contrario funziona per vedere le cose che riuscireste a vedere solo in Italia ad esempio mio marito quando ero in Australia l'ha utilizzato per vedere una partita di calcio inoltre Surfshark VPN ha anche un rimborso entro 30 giorni se non siete soddisfatti del servizio e ho un'offerta per voi se esate il mio codice ASMR chiara ve lo scrivo anche qui sotto in descrizione avrete 3 mesi extra in omaggio io vi lascio il link di Surfshark VPN qui sotto in descrizione e ringrazio ancora Surfshark VPN per aver sponsorizzato questo video e passiamo al video Ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi oggi torna la bambolina e facciamo un bel massaggio alla testa magari anche un pochino un'analisi del suo cuoio capelluto per vedere un attimo cosa succede e facciamo un po' i grattini anche proprio a partire dal collo ma prima andiamo a spazzurare i capelli ok? e dopo magari faremo anche qualche conciatura semplice semplice andiamo prima con questo pettine che dovresti conoscere bene ormai per questo trigger ma andiamo a utilizzarlo sui capelli andiamo a usare un po' meno non si sa come i capelli di questa bambolina di questo bambolina siano sempre annodati ma li andremo a fettinare pian piano pian piano diviniamoli in due pian piano e poi e poi sto pian piano e poi poi posso legarla Allora Ho fatto anche questi Andiamo a sciogliere E andiamo a dare anche una passata veloce Di spazio Allora Dall'altra parte Anche i lati Allora 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 Ok Adesso pensavo Di farle Un bel trattamento 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 Disgrassante Per capelli Un bel trattamento Anche proprio per Le radici Quindi Ti faccio vedere Ti faccio vedere Questo è Olio essenziale Di Tetri E andiamo a Metterlo Pian piano Sulle radici E poi a spalmarlo Ok Ma prima Andiamo a dividere i capelli Ok Allora Ho due pinzette O due pinzette Due cucine Il piacere Il piacere Tutto Il piacere Il piacere Il piacere È un uomo distribuirlo anche sotto e anche qui le radici sulla riga andiamo dall'altra parte, giriamo un pochino la testa ok dividera vado a pensare ok andiamo direttamente un pochino che e qui e sotto adesso vado a togliere e adesso andiamo a distribuire il tutto su tutta e tutta la testa e qui 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 andiamo adesso a a distribuirli anche un po' sul resto di capelli prima col pennello e poi andremo con la spazzola e qui e qui come se dovessi effettivamente distribuire una tinta a distribuire il prodotto lungo tutti i capelli anche ok, torna qua all'altro lato da questa parte distribuiamo concentrati sulla sensazione di sentire il pennello che pian piano dalle radici scende, scende, scende e ti accarezza tutta la testa stupendo pettiniamo, anzi spazzoliamo che Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Quindi facciamo una treccia attaccata alla testa, prendi i capelli. Qui ne ho presi un po' tanti. Ancora io li prendo solo. Ok. Questi qui in alto. E vado a dividere in tre ciocche. Non ci vedo molto, ma vi faccio un po' la bambolina. Allora, tre ciocche. Vado a mettere una giocca di lato sopra quella di mezzo e l'altra giocca di lato sopra quella di mezzo. Abbiamo fatto il primo nodo. Abbiamo fatto il primo nodo. Adesso prendo una giocca dal lato. che abbiamo il primo nodo utilizzato. E la vado a unire. Cos'è questo sinistra per me? Cos'è questo sinistra per me? E di nuovo prendo una giocca da sinistra e la unisco alla già esistente di sinistra e la vado a mettere sopra a quella di mezzo. Stavendo un po' storta. Stavendo un po' storta. E di nuovo vado a prendere una giocca da destra. Ok. Un'altra bella giocca. Che la unisco a quella di destra che ho perso. Ok. Trovata. E vado a portarla sopra a quella di mezzo. In questo modo vedete che si sta già formando la trezza. Prendiamo una giocca da sinistra. La vado a unire alla giocca già esistente di sinistra. e la porto nel mezzo. E ancora a destra. Prendo. E porto nel mezzo. Cioè prendendo i capelli da sotto. Li unisco a sinistra. E li porto nel mezzo. Adoro anche il suono dei capelli quando vengono intrecciati. L'ultimo unisco a destra e porto di mezzo. E continuo a prezzo. Naturalmente. Devo dire che è venuta un po' brutta però. Comunque. È venuta. Andiamo a scioglierla. Adesso voglio fare un'ultima cosa. Vado a prendere una mezzo giocca di qua. Allora. Un po' da sopra. E vado a legarla. Non so legare quelle degli altri. Ok. Ok abbiamo la prima. Adesso andiamo con la seconda. guardiamo tutti i capelli dietro. Perdonate le moto ma. Stasera è piena di gente che vuole scavare in moto quanto pare. Andiamo a fare un secondo codino. Se ci riesco. Ok. No. E abbiamo fatto due codini orribili. Adesso voglio fare un'altra cosa insieme. Almeno farvela vedere su uno. Cioè farvi vedere come si fa invece un'altra treccia. Ok. Ok. Quando è bella pettinata. Ma bella. E volendo da questa corda si può anche formare uno chignon. Io volevo farvi vedere solo questo. Ok. Togliamo. Togliamo. Leっち più fritte. Unisoft務 e un sosbai. 1 Ende 2 Esatto. Io spero sia stato rilassante. questo massaggio ai capelli, vedere queste aggonzature e io penso proprio penso proprio si è giunta l'ora a passare le luci e augurare augurarti augurare a te buona buona buonanotte buonanotte sonido oro good night sweet dreams buenas noches dulces sueños 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 buonanotte vete joyeva good night good night good night good night good night good night i piccoli pasticcini un bazook un bazook un bazook un bazook che li spera wow güer big tag car what hi car